Al vaglio della quarta commissione regionale la legge approvata dalla Giunta che contiene il piano sanitario e quelli operativi e che nelle intenzioni di fratture come stabilito dall'aula di Palazzo Moffa deve essere discusse e approvata dall'assise. Oggi ha ascoltato il subcommissario Rosato e i comitati presentate idee e proposte delle associazioni nate a Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Venafro e Agnone in difesa della sanità pubblica e sul territorio. Noi abbiamo presentato assieme al Veneziale di Isernia in comune un documento dove poniamo una serie di nostre osservazioni a quello che è un piano che in effetti non esiste perché parliamo di qualcosa, di un piano operativo che non è stato approvato dal comitato tecnico, dal tavolo tecnico Massicci, parliamo di un piano che non è stato mai pubblicato. L'osservazione fondamentale è lo spostamento di gran parte della sanità molisana verso le strutture private. Il privato ha come interesse il profitto quindi significa trasformare il diritto della salute in una qualsiasi merce che verrà scaricata come costi sulla popolazione. Questa è la posizione del comitato Santimotio di Termoli. Abbiamo fatto anche rilevare che l'audizione stessa è legata a una proposta di legge di approvazione di un piano sanità regionale facendo riflettere un po' sulla procedura in quanto essendo il Molise commissariato riteniamo che forse la legge anche andando a buon fine potrebbe essere impugnata da parte del governo per illegittimità costituzionale. Comitato Santimotio che aveva la delega a rappresentare anche il comitato Santissimo Rosario di Venafro che ha depositato un documento nel quale ha spiegato alcune cose. Evidenziano pure la vicinanza con altri comuni della vicina campagna e che quindi potrebbe essere un ospedale di confine che dovrebbe essere rafforzato. Ci sono difformità tra quanto presentato da frattura in aule e quanto portato al ministero ha detto il comitato e il cittadino c'è di agnone presente insieme anche al comitato articolo 32. non si può non garantire in Alto Molise servizi di emergenza e urgenza è stato evidenziato. Senza servizi questo non è più un ospedale per aguti è un ospedale di area territoriale e non ha più le caratteristiche per poter garantire l'urgenza e l'emergenza nell'Alto Molise. Anche l'associazione civica Frentana ha ribadito alcuni aspetti non chiari riguardo la legge in quarta commissione. Noi facciamo presente che questo documento deve essere comunque revocato dal presidente della regione. Dopodiché si potrà trasferire al consiglio regionale la creazione di un nuovo documento. A muso duro la replica ad alcune dichiarazioni che avrebbe fatto durante una pubblica assemblea il presidente del consiglio regionale Vincenzo Niro riguardo l'ospedale di Larino. Ci hanno detto che siamo morti, qualcuno ha detto che non sappiamo più fare operazioni, non riusciamo a mantenere i malati. C'è stato un discredito che è veramente vergognoso. Io mi meraviglio che addirittura un'alta carica del consiglio regionale abbia espresso giudizi piuttosto negativi e spregevoli nei confronti del nostro ospedale. Anzi potremmo dire che farebbe onore questo signore a dimettersi almeno per dimostrare il suo pentimento. In seguito le audizioni dei rappresentanti del tribunale del malato e dei sindacati del settore sanità.